Dopo aver coinvolto migliaia di persone in giro per i locali e i pub di tutta Italia, arriva a dicembre in esclusiva su canale 8 Mr. Quiz in TV. Cosa aspetti a partecipare? Iscrivi la tua squadra ogni settimana in premio un viaggio per 4 persone in una capitale europea o in una località italiana a vostra scelta. E tanti altri ricchi premi offerti dai nostri sponsor. Per iscrivere la tua squadra basta chiamare il 338-9145724 oppure puoi inviare una mail a mrquizintv.it o altrimenti puoi visitare su Facebook il gruppo Mr. Quiz Ragusa. Mr. Quiz in TV, la sfida è appena cominciata. forno a rientrere. il gruppo Mizzino per la sfida è disponibile. Per iscrivervi al nostro canale. Per è inizialmente i trucchi all'intenere. Proprietroבר